Come Gesù fu sbarcato, vide una gran folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendo già tardi, i discepoli gli si accostarono e gli dissero, «Questo luogo è deserto ed è già tardi. Lasciali andare, affinché vadano nei villaggi dei dintorni e si comprino qualcosa da mangiare». Egli domandò loro, «Quanti pani avete? Andate a vedere». Essi si accertarono e risposero, «Cinque e due pesci». Gesù prese i cinque pani e i due pesci e, alzati gli occhi verso il cielo, benedisse e spezzò i pani e li dava ai discepoli, affinché li distribuissero alla gente, e divise pure i due pesci fra tutti. Tutti mangiarono e furono sazi, e si portarono via dodici ceste piene di pezzi di pane ed anche i resti dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano cinquemila uomini.